Dopo due trasferte consecutive il Valle Soverato torna al Palascoppa per ospitare una squadra ostica come Battistelli San Giovanni Marignano, una sfida importante alla luce dei risultati che sono maturati anche nel turno infrasettimanale, vittoria prima a Caserta domenica scorsa, poi c'è stata la sconfitta a Trento per 3-1, quindi Soverato voglioso di riscatto. Sì, sicuramente in casa cercheremo di far bene, le partite si giocano, si vincono, si perdono, fa parte del gioco, come hai detto tu contiamo una squadra importante, una squadra che è stata prima in classifica per metà del G1 d'andata e devo dire che loro hanno una gran linea di recezione, sul fondamentale sono uno dei migliori del campionato, perciò è inutile dire che contro una squadra che riceve bene bisogna battere molto molto bene. Ecco, una squadra quella guidata tra l'altro dall'ex tecnico del Valle Soverato Stefano Saia che dopo un periodo di appannamento adesso sta tornando come ad inizio campionato, reduce da due vittorie importanti e si è avvicinata anche al Valle Soverato, indice di un campionato che in vetta è molto equilibrato. Sì, non è che penso che sia lo stato di forma perché è il livello così alto, così importante dove ci sta che una squadra anche come la loro, costruita per il vertice, abbia magari, possa incappare in una o due sconfitte, questo abbiamo già detto, fa parte del campionato. Loro a mio avviso hanno fatto dei buoni risultati, sono in un'ottima posizione, forse hanno avuto qualche settimana un po' di appannamento, però questo non riguarda il momento, la partita, noi dobbiamo pensare a domenica, a giocare bene, come abbiamo detto, a battere molto molto bene perché come ho detto prima è una squadra forte non solo in recezione ma anche nei fondamentali di seconda linea, è un grande equilibrio, giocano molto la palla, perciò dobbiamo soprattutto sulle azioni prolungate stare molto attenti. Tornando invece alla sfida di mercoledì scorso a Trento, oltre ai meriti comunque di Trento che ci sono, perché è una squadra importante costruita per un campionato di vertice, cosa non ha funzionato a giudizio di coach Barbieri nel Soverato? C'è stata un po' di altalenanza anche nello stesso set, anche a livello di gioco probabilmente? Ma guardando le statistiche, rivedendo una partita, parlando un po' con le ragazze, quello che abbiamo reso meno rispetto alle altre partite è stato in recezione, cioè lì è da valutare quanto loro hanno battuto bene e con precisione e quanto noi non lo siamo stati altrettanto, perché non siamo una squadra magari che ha delle percentuali altissime ma comunque siamo costanti, invece lì abbiamo avuto proprio un paio di momenti dove abbiamo pagato troppo, ecco forse può succedere, può succedere una partita, è successo mercoledì, dove effettivamente qualcosina di troppo abbiamo pagato in questo fondamentale. Grazie a tutti.